ciao a tutti e benvenuti a primos de calcio il napoli ha reso noto la lista uefa e come molti pensavano non c'è piotre zielinski gli altri due scusi sono den donker e diego demme prima di esprimere la mia opinione sulla scelta di mazzari scelta sua fino a un certo punto e mi spiegherò meglio tra un attimo vi invito a scrivervi al canale dunque zielinski non ci sarà nella doppia sfida contro il barcellona per molti questi questa sarà l'ultima partita o meglio saranno le ultime due partite del napoli in champions league io attendo l'esito del campo pur consapevole che l'avversario è forte nonostante una stagione non esaltante non che quella del napoli sia stata migliore anzi oltretutto come detto in un video di qualche tempo fa dubito che il napoli possa qualificarsi per la prossima champions league poiché servirebbe una media punti che il napoli non pare essere in grado di fare ma torniamo all'esclusione di zielinski forse mi sbaglio ma questa è una ripicca di de laurentis che ha imposto a mazzari di escludere zielinski è una scelta punitiva della quale non se ne sentiva la necessità il napoli ha bisogno dell'aiuto di tutti e di certo il centrocampista polacco non avrebbe remato contro anzi avrebbe potuto fare dare una mano nella doppia sfida contro i catalani invece non sarà così che senso ha inserire nella lista uefa tra ore appena arrivato con pochissimi minuti giocati in questa stagione già il campionato di riparazione stato deludente sebbene sia arrivato un calciatore interessante come come un gonce se ci mettiamo anche a fare le ritorsioni allora meglio chiudere qui la stagione secondo me napoli sta accumulando una serie impressionante di errori lo sta facendo dalla fine dello scorso campionato ed ha perseverato gli acquisti fatti a gennaio dimostrano come lo stesso de laurentis sia consapevole che la stagione è da considerarsi fallimentare limitandosi ad investire il denaro ricavato dalla cessione di elmans per finanziare il mercato di gennaio e un paio di questi calciatori molto probabilmente torneranno torneranno da dove sono venuti zielinski per quanto anche il suo rendimento non sia stato chissà che era una certezza il fatto che abbia firmato con l'inter a mio avviso non non avrebbe dovuto portare ad una sola estromissione si pretende giustamente che i calciatori si comportino da professionisti lo stesso dovrebbe fare chi dirige la società le ripicche sono cose da bambini e non vanno assolutamente bene sono atteggiamenti come questi che impediscono al napoli di crescere come squadra e come società invece di cercare di rinsaldare il gruppo si sono create altre altre fratture si è generato altro malcontento adesso cosa dobbiamo aspettarci che zielinski venga messo ai margini della squadra anche in campionato credo che questo atteggiamento sia più dannoso per il napoli che per il polacco dispiace che la storia tra zielinski e napoli debba finire così ma dispiace ancora di più vedere un atteggiamento che porta sul personale quello che è un rapporto lavorativo che oltretutto nessun beneficio apporta anzi toglie a mazzarri un calciatore che servire gli sarebbe potuto servire e tutto ciò in una situazione in una situazione grave io chiudo qui fatemi sapere con un commento se voi siete d'accordo con l'esclusione di zielinski dalla lista UEFA ed eventualmente se ritenete che sia giusto relegarlo in panchina fino alla fine del campionato o magari debba essere considerato un calciatore importante nonostante andrà via prima di salutarci vi rinnovo l'invito e iscrivetevi al canale ciao e alla prossima